L'anno, chi mi mettiamo la data della fondazione della scubertà media? 2012, 1492, 520, la data della fondazione di Montecassini. E dovete sapere che l'Abbazia, la strada statale che va in Abbazia, è la 149. Ora mettendo i giorni e i mesi, non puoi mettere uno al 49, uno da una parte, devi mettere 149, no? 14 settembre. Sai che San Cueto non va? Non è nessun santo. Esaltazione della scubertà. Ora, un'altra cosa è stata esaltata, un'anni fa, in una collina, no? Un'altra cosa, il giorno del bombardamento, la giunta a Cittarelli, ti canziono la data, per anni, prima era 14, 14, il romano, no? Poi per anni, il segnetto, era stato cancellato, non capite, è 14 o 15, non capite, capite che sotto c'era, però era cancellato a Berlì. Che sta? Oh, la Cagnata, lato sta Banca della Rociania, la Cagnata, fatto sta, la Cagnata c'è questo 15 normale, un mese dopo a Cittarelli, un mese dopo, questo è uno, due, se tu vai ai negozi che stanno intormonati, mi arriva la posta ancora 14 febbraio. ritornando a queste date, a questi simboli, no? Il 341 Sant'Azione Santa Croce che porta su, se è 14 febbraio, c'è un significato di più, perché è San Valentino. Allora, è contro Dio, contro Dio che sta 500 metri più vicino a cielo. se tu chiudi l'aria in aspirazione, te la manda a pochi mandati, perché tu, la data, finita la guerra, che era 14, è 78 qua. Allora, tu qua, se fai i primi anni, la fai giusta, andare ad aprire, meno aria gli fai ispirare. Cioè, la fai giusta, cazzo mai, andando avanti la sbagli, perché ti ascolti, quindi quella data che è andata, che è stata messa dopo, è quella sbagliata. Nel 50, 14, nel 60, non lo so quando è stata fatta la piazza, c'è messa la data giusta, perché erano pochi anni, tutti se la ricordavano, c'erano tutti vivi, cosa voglio dire. Se dico una cosa, c'è la guerra mondiale, senza far pensare. se tu prendi il giorno della resa dei giapponesi, che è stato il 2 settembre, ma con tutto il tempo orario, è fino a 6 anni. Questa è una velocità. ... ... ... ... ... ... un po' di visione io sono convisto per un po' di legati è un po' di legati è un po' di legati potrebbe essere un po' di legati io ti faccio una domanda con l'invenzione della merce in generale allora vengono le battaglie da male questi qua come si fa andare in contatto allora con l'invenzione è stato possibile programmare anche sparare i compagni perché se metti l'evanto tra cristiani e tutti ci non fatti col ciumacanate non fatti col ciumacanate non fatti col ciumacanate potrebbero aprire che fanno quei fili potrebbero stare io lo so i fili camminavano la frotta veneta c'aveva 100 e non c'aveva marinare io li pigliavo, quelli erano pescatori i fili camminavano allora questo qua più strozzi se tu prendi un cartone se tu prendi un cartone se tu prendi un cartone lo chiudi qua l'aria è diventata meno di mandata se tu lo chiudi in mandata lo freni se lo chiudi in aspirazione lo allungisci quindi lei fa l'aria e il potere è rimasto per 4 anni per esempio quando è nato il 20 ora in un anno c'è stato 12 e 20 che puzza ce l'ho smesso dopo 20 se tu metti sai perché italiano cosa spingi perché una cosa agosto metti la prima lettera gira settimana non con l'alfabeto americano W Y che era di 69 6 e 9 quello italiano una cosa sostanziale sostanziale ma i tedeschi e i giapponesi chi ci dava il petrolio stavamo a togliere il messia ma tu non mi dispongi anni di cani metti in barca i trasformatori in Europa 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 in Europa